L'illuminazione del colonnato è diventata ormai un'icona di Napoli internazionale su tutti i siti più importanti, c'è questa immagine ma anche nei film, ricordo in ultimo quello dei Manetti Brothers su Napoli in cui c'è lo sfondo appunto del colonnato illuminato. Vorrei ricordare che questo colonnato è stato sulla pagina di Obama, il Presidente degli Stati Uniti d'America, credo che tra l'altro visto l'enorme boom turistico della città e considerato il fatto che non c'è turista che passa per Napoli, che non si fotografi, che non faccia un selfie con il colonnato illuminato alle spalle, davvero ormai è tra i simboli della città. Quindi mi viene ovviamente in mente il momento in cui è nata questa idea, cioè quando abbiamo fatto per la prima volta il concetto di 21 pianoforti sotto il colonnato, con il colonnato illuminato in cui le luci andavano in sincronia con la sinfonia. Cosa che abbiamo ripetuto e ripeteremo anche nel 2018 appunto in occasione di Piano City e in tante altre occasioni. Quindi credo che questo ormai caratterizzi la città e crea un'atmosfera di festa e di cultura che piace ai nostri concittadini e piace moltissimo ai turisti. Grazie a tutti.